Continua fanno il problema della stangata delatare in retroattiva la tassa sui rifiuti. Oltreventi, infatti, sarebbero le industrie sul piede di guerra per le bollette inviate dagli uffici dell'Andreani Tributi, la concessionaria che ha svolto una serie di accertamenti da cui sarebbero emerse irregolarità e metrature diverse da quelle rilevate anni fa. Aset, infatti, aveva perimetrato tutte le zone occupate dai macchinari, escludendo alcune superfici che invece ora vengono calcolate, ma secondo diversi imprenditori, in modo errato. Per questo, stamattina, le associazioni di categoria sono state accolte nella Sala della Concordia del Comune di Fano per un confronto con l'amministrazione. Durante la riunione sono state avanzate critiche richieste. Per Luciano Cecchini, degli alberghi consorziati, non era questo il momento di inviare all'industria delle maxi cartelle esattoriali. Con la crisi che abbiamo, strutture che pensano alcuni aprire, non aprire, avere delle cartelle da 4, 5, arrivano anche a 200 mila euro, io penso che non era il momento adatto trovare questa soluzione. Bisognava prima concertarci con noi, parlare e trovare una soluzione migliore. Le risposte del Comune sono state poco soddisfacenti, ci ha detto invece Andrea Giuliani di Oasi Confartigianato. L'amministrazione, ha aggiunto, è responsabile di quello che sta accadendo e non può nascondersi dietro all'affidataria. Noi abbiamo chiesto all'amministrazione, quando scadrà il contratto con l'attuale affidataria, di riprendere in ausi il servizio o di affidarlo all'ASET. Abbiamo chiesto di eliminare tutte le cartelle esattoriali che sono state fatte con tutti gli arretrati di 5 anni e per il 2020 di discutere la maggiore superficie imponibile richiesta dall'attuale affidataria, discutere grazie anche all'intermediazione di una figura di garanzia. E questo insomma è quello che abbiamo chiesto per risolvere questo problema. L'attuale affidataria chiede 5 anni di arretrati con le sanzioni al 50%, riducibili al 30% per legge, ma comunque sono sempre delle cifre esorbitanti perché noi abbiamo delle imprese artigiane che debbono pagare 13.000 euro o anche 10.000 euro. Sono cifre esorbitanti, ha commentato Giuliani, e ora c'è il rischio che qualche impresa artigiana licenzi o riduca il personale per far fronte a queste spese. Valuteremo caso per caso, ha poi assicurato l'assessore ai tributi Sara Cucchiarini, presente insieme al collega Etienne Lucarelli e al sindaco Massimo Seri. Il percorso verrà fatto insieme ai rappresentanti delle associazioni per verificare eventuali anomalie. Ogni associazione di categoria farà una raccolta di quelle attività produttive che hanno la necessità appunto di fare un approfondimento maggiore con un accertamento con adesione che sospende i termini appunto di sospensione delle cartelle e dà la possibilità di un'analisi più dettagliata con l'ufficio tributi del Comune e con la Andreane Tributi e le associazioni di categoria di ogni azienda.